allora un altro breve video non armi l'altro giorno ero andato a fare un paio di chiavi e ho trovato un paio di guanti togliamoli dalla busta sono della issa mai sentito? taglia xl marcati armi esercito sono mimetici palmo liscio notate che all'interno dei polpastrelli ci sono delle gommature antiscivolo assenti sul dito indice quindi sul dito indice si presume che si possano utilizzare sono in neoprene si possono utilizzare per premere il grilletto magari d'inverno senza usare i guanti corti non sono estremamente se è cordura elasticizzata sotto neoprene con posizione mista apertura ovviamente made in china ovviamente pelle sintetica spandex e neoprene e 2% poliammide sono wow mettiamo ora il nostro guanto ecco qua questo è il nostro guanto armi mimetico ci giocheremo a soft air se ci toglieranno le armi pazienza di questi tempi 18 euro più o meno 2 euro in più di sabetro ma ci può stare un conto comprare su un grande distributore online come amazon un conto una piccola ferramenta di un paese che ha costi differenti ma comunque si presentano bene riproveremo anche questi sul campo